Salve ragazzi, bentornati in un nuovo video. Come sempre vi ricordo di seguirmi sui miei social, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per ricevere la notifica di ogni nuovo video. Iscrivetevi anche a Telegram, ve lo lascio qui sotto in descrizione. Oggi andremo a vedere insieme una magia che può essere eseguita utilizzando un mazzo di carte. Ho deciso di insegnare questa magia perché stavo pensando a un effetto che potessimo fare al mare. In realtà questa magia la possiamo fare sia al mare che non. Tuttavia, volevo un effetto che potessi usare al mare in questa estate e quindi ho creato questo gioco basandomi su un principio che vi spiegherò poi nel tutorial. Infatti, prima vi farò vedere una piccola performance e poi passeremo subito al tutorial. Possiamo realizzare questa magia, per esempio noi ci troviamo al mare con i nostri amici e stiamo facendo una partita a scala 40. Tra una parte e un'altra vogliamo fare un effetto magico. Quindi prendiamo le carte, le andiamo a mischiare e siamo pronti per realizzare la nostra magia. Se siete curiosi, continuare a vedere il video e buona visione! Immaginiamo di aver appena finito una partita di scala 40 e durante un breve periodo di pausa diremo di voler fare un effetto magico. Volete vedere una magia? Sì? Allora, osservate. Io qui ho un mazzo di carte. Come prima cosa ti chiedo di scegliere una carta. Prego, prendi una carta. Va bene, quella o la vuoi cambiare? Ti chiedo di ricordarla. La facciamo vedere anche in telecamera. E ora ti chiedo di rimetterla all'interno del mazzo. Io così scorro le carte. Tu quando vuoi metti la tua carta. Prima, l'hai già messa? Ok, continuo a mischiare le carte. E andiamo a chiudere il tutto. Ora dovrei andare a prendere un piccolo gruppetto di carte. Io scorrerò le carte in questo modo e mi dovrei dire stop prima che le carte finiscono. Prego. Stop. Ti chiedo di andare a fare tre gruppetti, quindi tre mazzetti, formati dallo stesso numero di carte, utilizzando queste carte. Se ti dovessero rimanere delle carte, poi le andiamo a rimettere sopra il mazzo. Questo può essere mescolato, in questo modo. E poi lo mettiamo qui da parte. Tre gruppetti, quindi, in questo modo. Sono rimaste. Ok, non sono avanzate delle carte. Ora, io mi giro. Quindi tu hai fatto tre gruppetti, non posso sapere da quante carte appunto sono composti e non posso sapere neanche se hai messo delle altre carte sul mazzo. Ti chiedo di prendere dai mazzetti centrali tre carte a testa e di metterle sul mazzetto centrale. Quindi dai mazzetti laterali, scusa, devi prendere tre carte e le metti su quelli centrali. Quindi, uno, due, tre, uno, due, tre. Ora, conta da quante carte ha formato il mazzetto di sinistra. Tipo, se è formato da due carte, dal mazzetto centrale prendi due carte e le togli. In questo caso una carta. Quindi prendiamo una carta e la togliamo. Ora, se dovessi aver messo altre carte sopra il mazzetto principale, quindi se ti erano rimaste delle carte, tipo, se ti era rimasta una carta, prendi una carta da uno dei due mazzetti laterali e la metti sul mazzetto centrale. In questo caso a noi non era rimasta nessuna carta, quindi non dobbiamo fare niente. Mi giro. Ora, ti chiedo di prendere il mazzetto centrale che è formato da un numero di carte. Andiamo a vedere da quante carte è formato. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto e nove. È un numero molto curioso nove. Perché tu prima avevi scelto una carta. Noi ora abbiamo un numero nove. Osterbiamo un po'. Ti chiedo di prendere il mazzo e di contare nove carte. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove. Una carta prima, una donna di quadri. Una carta dopo, un cinque di fiori. La nona carta è esattamente un jackie pick. Questo era l'effetto. Se siete curiosi di impararlo, vi consiglio di continuare a vedere il video e buona visione. Perché anche se apparentemente potrebbe sembrare un effetto semplice, in realtà all'interno di questo effetto è nascosto un segreto. Se volete conoscerlo, vi conviene continuare a vedere il video. Benvenuti nella spiegazione di questo effetto magico. L'effetto si divide in due parti. Osterbiamo prima la prima parte, che consiste nel far scegliere una carta dallo spettatore e poi inserirla in una determinata posizione. Immaginiamo che scelga il 10 di quadri. Noi la carta scelta la dobbiamo far apparire in una posizione. Per far ciò, dobbiamo andare a contare otto carte e la nona carta dovrà essere quella dello spettatore. Noi possiamo fare in questo modo. Mentre parliamo, passiamo un gruppo di tre carte con molta disinvoltura. Poi nuovamente altre tre carte, poi altre due carte che le possiamo passare insieme o una alla volta. E poi dobbiamo fare in modo che lo spettatore metta la sua carta. Se noi ripetiamo questa operazione molto velocemente, senza dargli troppo peso, di solito lo spettatore indicherà 3 secondi o 4 secondi più o meno a mettere la sua carta. Quindi così noi velocemente prendiamo tre carte, due carte, poi lo spettatore metterà la sua carta e continuiamo a passare le carte. Così, in questo modo, la carta finirà in una posizione. Vi consiglio di allenarvi un po' nel fare questa operazione. In questo modo poi riuscire a farla in un modo molto più disinvolto. Sette di quadri, passiamo un gruppetto di tre carte, poi nuovamente un gruppetto di tre carte, poi o due carte insieme o una alla volta. Poi lo spettatore metterà la sua carta, che sarà la nonna carta. Vi faccio vedere. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Nonna carta. E poi sopra continuiamo così, a mettere altre carte, in questo modo casuale. Possiamo anche mischiarle e le buttiamo sopra. Poi andiamo ad unire il tutto e una prima parte è già stata realizzata. Ora diremo al nostro spettatore che ci dovrà dire stop. Noi andremo a scorrere le carte, in questo modo, e lui ci dovrà dire stop. Questa operazione è un po' particolare, dovete stare molto attenti. Infatti, lo spettatore vi dovrà dire stop. Le carte che vi riammarranno in mano dovrà essere un numero compreso tra le dodici carte e le diciannove. Non è molto difficile realizzare il ciò. Infatti, voi scorrete le carte. Se lo spettatore vi dirà stop, per esempio, in questo punto, voi sapete che queste non sono dodici carte. Insomma, infatti, sono quattro. Quindi, se lo spettatore vi dice stop troppo tardi, voi potrete finire. le carte direte ah, troppo tardi. Ve lo devi dire un po' prima, così, quindi anche in un modo un po' scherzoso. Nuovamente, vi farete di dire stop. Più o meno, insomma, ad occhio, dovete imparare, con un po' di allenamento vi riuscirà molto semplice, che se prenderete un numero di carte tipo così, quindi di questa grandezza, allora saprete che sicuramente saranno delle carte comprese tra le dodici e le diciannove. ora facciamo un esempio proprio con queste carte. Andiamo ad osservare quante carte sono. Infatti, sono 15 carte. Mentre lo spettatore ha queste carte in mano, le ha prese, noi dobbiamo fare quest'altra operazione. Abbiamo il nostro mazzo di carte e lo dobbiamo andare a mescolare. Ma in che modo? Vi faccio vedere. Noi sappiamo che a partire dal fondo la carta dello spettatore è la nona. Guardate. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nona. Dobbiamo portare queste carte da sotto a sopra. In questo modo noi scorriamo le carte. Le prime carte le possiamo scorrere anche insieme, quindi tipo due, tre carte. Quando arriviamo verso la fine cominciamo a scorrere le carte una alla volta. In questo modo. Le ultime le possiamo anche buttare insieme. così automaticamente la carta dello spettatore da nona in fondo diventerà la nona a partire da sopra. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove. Come mai la carta dello spettatore si deve trovare proprio in nona posizione? Perché queste carte, quindi le nostre quindici carte che abbiamo preso, vi serviranno per far apparire un numero ed è il numero che vi apparirà sarà un numero compreso tra nove carte o un numero superiore. Guardate, continuate a vedere. Quindi sappiamo che la carta dello spettatore si trova in nona posizione a partire da sopra. Ora arriva la seconda parte del tutorial. Noi abbiamo queste carte e diremo allo spettatore che dovrà formare tre gruppetti, in questo modo tre gruppetti, uno, due, tre, formato dallo stesso numero di carte. quindi continuerà a buttare le carte in questo modo con lo stesso numero. Ora, lo spettatore aveva preso quindici carte, quindi non rimangono alcune carte aggiuntive. Per esempio, se avesse preso diciassette carte, quindi se avesse preso due carte in più, dopo aver messo le quindici carte sarebbe rimasto con altre due carte, non potendolo emettere, perché altrimenti i mazzetti avrebbero avuto un numero di carte diverse e noi inizialmente abbiamo detto che i mazzetti devono avere lo stesso numero, avremmo detto che le carte in più le avrebbero dovute buttare sopra il mazzo. Questo non è il nostro caso. Quindi queste carte in più le togliamo. Ora vi faccio vedere. Ora entra in gioco un principio matematico. noi abbiamo tre mazzetti di carte formato dallo stesso numero. Dovremmo dire allo spettatore di prendere tre carte 3 dagli mazzetti laterali e di mettere al centro. Quindi tre carte dal mazzetto di sinistra 1 2 3 e tre carte dal mazzetto di destra 1 2 3 Ora entrambi i mazzetti laterali saranno formati da due carte mentre il mazzetto centrale dà un numero di carte che noi al momento non sappiamo ma non ci interessa vi voglio solo far vedere una cosa. Ora diremo allo spettatore di contare da quante carte è formato uno dei due mazzetti laterali in questo caso due ma può contare anche le carte del mazzetto di sinistra dando le carte sono uguali e di prendere quindi due carte e di toglierle dal mazzetto centrale. Tutte queste cose che gli diremo lo spettatore le farà mentre noi saremo girati quindi non sapremo da quante carte sarà formato attualmente il mazzetto laterale e neanche il mazzetto centrale non sono delle informazioni che ci servono. Quindi continuiamo diremo allo spettatore di contare da quante carte è formato immaginiamo il mazzetto di destra il mazzetto di destra due e di prendere tante carte dal mazzetto centrale e di toglierle e di metterle ai mazzetti laterali dove vuole immaginiamo che le metta qui ora una volta fatto questo ci potremo anche girare gli diremo di prendere il mazzetto centrale e di contare da quante carte è formato automaticamente il mazzetto centrale sarà formato da nove carte vi faccio vedere uno due tre quattro cinque sei sette otto nove per questo motivo inizialmente vi avevo detto che la carta dello spettatore l'avremmo dovuta mettere in nonna posizione perché ora potremmo fare così guarda tu inizialmente avevi scelto una carta che è stata dispersa all'interno del mazzo ora qui è uscito un numero nove ti chiedo di contare nove carte uno due tre quattro cinque sei sette otto nove e la nonna carta sarà la carta dello spettatore tuttavia non è il mazzetto centrale ora è uscito formato da nove carte ma prima vi ho detto che lo spettatore avrebbe potuto prendere un numero di carte qualsiasi compreso tra le dodici carte e le diciannove immaginiamo che le carte prese erano quindici se ne aveste prese diciassette cosa sarebbe successo quindi diciassette carte vi faccio vedere lui avrebbe dovuto formare sempre tre mazzetti in questo modo poi gli sarebbero rimaste due carte aggiuntive e le avrebbe dovuto emettere sul mazzetto centrale ora voi dovete chiedere sempre le stesse cose allo spettatore quindi di prendere tre carte dei mazzetti laterali e di mettere al centro quindi uno due tre poi gli direte di contare le carte del mazzetto di destra in questo caso due quindi di prendere il numero corrispondente di carte dal mazzetto centrale e di toglierle e di metterle su ai lati del mazzetto dove vuole poi gli faremo la domanda per caso hai messo delle carte aggiuntive sul mazzo lui ti potrà dire sì ok ti dice di sì e quindi gli dovrei dire ora se hai messo due immaginiamo che hai messo una carta sul mazzetto principale allora gli diremo di prendere una carta dai mazzetti laterali da dove vuole una sola e la metterà sul mazzetto centrale in questo caso lui ha messo due carte sul mazzetto principale quindi dovrà prendere due carte dai mazzetti laterali cioè due vuole può prendere una carta da qui e una carta da qui e noi quando andremo a contare le carte non saranno non saranno più nove ma saranno undici uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci e undici ora ragazzi voglio farvi vedere un attimo nel dettaglio il motivo per il quale noi sappiamo sempre che il mazzetto centrale è formato da nove carte noi dobbiamo avere tre mazzetti formati dallo stesso numero di carte il numero minimo di carte da cui devono essere composti è quattro affinché poi il mazzetto centrale sarà formato da nove carte se voi ripetete le operazioni che vi ho detto precedentemente quindi prendete tre carte dai lati e le mettete al centro poi contate il numero di carte di uno dei mazzetti laterali uno prendete quindi una carta dal centro e la togliete automaticamente il mazzetto centrale sarà formato da nove carte anche oggi siamo giunti alla conclusione di questo video io vi ricordo di seguirmi sui miei social se ancora non l'avete fatto come avete potuto vedere è un effetto molto semplice da realizzare tuttavia non per questo una cosa semplice vuol dire che è brutta infatti a volte anche i principi più semplici riescono a sbarottire lo spettatore perché lui non conosce i meccanismi che ruotano intorno all'effetto spero che vi sia piaciuto e noi ci vediamo in un prossimo video come sempre buona magia grazie a tutti Grazie a tutti.